è finito ragazzi campioni vinciamo ragazzi la supercoppa della stagione domenica 22 domenica 23 vi ringrazio ragazzi un bel like non vi ringrazio un bel like ai 200 iscritti mi manca solo 4 quindi iscrivetevi in tanti perché fate molto molto piacere e condividetevi dove che partita ragazzi annientati disintegrati 0-3 senza replica senza dire nulla ragazzi 0-3 clamoroso le abbiamo umiliati umiliati ragazzi che veramente è imbarassante un interesse però spettacolare dobbiamo dirlo Inzaghi come sempre ragazzi si esalta nelle partite comunque a gara secca nelle partite comunque che ti potrebbero fare sia sprofondare che andare in alto lui ragazzi va in alto invece nelle partite con le piccole lui invece è crono non so se perché però ragazzi l'arreggiamento un po' da rivedere cioè nelle altre partite perché questa ragazzi è sempre perfetta Inzaghi terzo trofeo dopo la Coppa Italia la supercoppa dell'anno scorso quindi fa 2 su 2 di supercoppa Inzaghi 0-3 questa volta senza replica senza niente clamoroso e ragazzi niente clamorosa che va avanti dopo 10 minuti dopo un'azione colale fantastica da Playstation da Playstation da Fino 23 pallone di Ciannoglu per Diego ragazzi che dà un pallone d'oro a Barella in area di rigore in posizione regolare di un'unghia con Kier in gioco un passaggio un passaggio millimetrico strepitoso 10 milioni in campo Barella ragazzi trova sull'esterno di Marco che a DC ragazzi ha portavuoto fa un gol facile facile ne ha fatti di molti più difficili ragazzi a buttare dentro Tatarugiano che non la può poi ragazzi Mina un po' si sveglia con Leao un grande pallone di Brandias in profondità per Leao che scarta tutta la difesa dell'Inter molto più veloce calcia col destro a giro grande risposta di Unana che respinge con una grande reattività e un grande tempismo comunque e grandi riflessi poi ragazzi basta poco all'Inter per superare il 2-0 prima con Gekko da calcio d'angolo grande risposta di Tatarugiano e poi ragazzi poco dopo con Di Marco con un errore pazzesco di Tomori che ragazzi dalla difesa fa un passaggio in orizzontale al centro ragazzi quindi un difensore è l'ABC io giochi in questa categoria lo so che non devo passare il pallone centralmente dopo magari una chiusura difensiva allora ragazzi lo fa Di Marco solo dal limite della calcio è un granissimo mancino grande risposta di Tatarugiano che salva il risultato sul 1-0 ancora poi ragazzi però manca poco e lì ragazzi fa il 2-0 altra dormita colossale della difesa del Milan Bastoni con un calcio di posizione dalla sua area ragazzi va con un pallone in verticale per Dzeko ragazzi che fa una giocata strepitosa il Ciglio di Sarajevo che giocatore è il Ciglio di Sarajevo ma che Lukaku ce l'abbiamo Dzeko che è un fenomeno ragazzi metta a sede completamente tonali con una finta di mancino strepitosa e poi ragazzi col destra giro sul secondo palo batte l'incolpevole Tatarugiano per la seconda volta che non la può ragazzi un Kier Tomori ragazzi disastrosi tonali manco a dirlo che Inter ragazzi che Inter il Milan non fa più nulla nel secondo tempo ci prova ancora con Leao ma altra grande risposta di un'ana poi ragazzi l'Inter nel secondo tempo abbastanza tranquillo abbastanza anomalo dove il Milan non prova mai a cercare il gol del 1-2 non si sa perché e ragazzi niente poi dopo riusciamo a fare il 3-0 con un grandissimo pallone di Skrini per Lautaro che la gira praticamente Tomori tutta la difesa del Milan ragazzi fa un gol di Aster veramente di presevole fattura ragazzi quindi tanta tanta roba che prestazione di tutti difensori attaccanti Dzeko soprattutto ragazzi Barella che partita che partita del Milan veramente tutto imbarassante a parte Ternandes che ci ha provato Tomori Kier veramente imbarassante Tottero Luciano ragazzi ha salvato anche troppo perché ha fatto a finire 5-6-0 senza ragazzi problemi adesso ragazzi testa all'Empoli come di ben a tutti ciao al prossimo video forza ragazzi campioni